Ciao a tutti amici e benvenuti alla Bianco Auto, oggi voglio presentare questa fantastica Audi A3 Sportback 1000 TSI 116 CV quindi 30 TFSI nella versione Advanced, guardate che bella, fare loxeno, colore nero metallizzato, ruote in lega, sensori parcheggio posteriori, guardate che bella, 30 TFSI, quindi 1000 benzina, 116 CV, vettura che va benissimo, veramente da provare perché va veramente bene, guardate che bella, guardate, dentro è nuovo una macchina che ha 21.800 km, 2019 praticamente è nuovo, guardate, stupendo, guardiamo il baule, bello spazioso, guardate, andiamo a vedere la parte anteriore a destra, guardate, stupenda, quindi per chi fa pochi chilometri è veramente la macchina ideale, 30 TFSI, quindi 116 CV, macchina che va benissimo, stupenda, andiamo a vedere gli interni, ecco qua, vedete, 21.800 km, volante multifunzione, cruise control, clima automatico, navigatore, telefono bluetooth, radio, media interface, veramente tutto, sensori parcheggio posteriori, vettura che noi la consegnavo con tre anni di garanzia, col tagliando fatto di tutti i filtri, con le doppie chiavi, tappetini in gomma, lucidature esterne, sanificazioni interne, questa è l'Audi A3, Sportback 30 TFSI, venite a vederla da Bianco Auto a Motta di Costigliola perché ne vale veramente la pena, ciao a tutti!